Pezzo, cosa c'è lì dietro? Sono le cannonate, sono in fibrillazione lì, ormai l'anno sta per concludersi, Michele, quasi. Però la prossima canzone che voglio farvi ascoltare parla delle donne e della conquista della loro dignità, perché è una storia vera quella che vi canto, una storia vera di una persona, di una donna che vendeva se stessa e ha trovato la forza di rialzarsi ritrovando la dignità perduta, denunciando, è una cosa importante. La canzone si chiama Nella stanza 26. Ma sono le mani, le mani. Tieni il tempo, tieni il tempo. Non insegnarne un dici simbolino, di un certo stato d'animo che hai, non ce la fai. Ma dagli uomini che ti abbracciano e ti rubano dagli occhi l'allegria. Se le lacrime ti aiutassero, punteresti via il dolore che ora c'è, E' dentro di te, nella stanza 26. Tra quei fiori che non guardi mai, dove venti il corpo ad ore, dove amarseno d'amore, e straiandoti vai via da te. Nella stanza 26. Dove incontri sempre un altro addio, che finisce il tuo bisogno d'affetto, in quel breve contatto, che non c'è niente. L'uomo che non vuoi, l'uomo che non sai, sta bussando alla tua porta, già da un po', ma non li aprirei. Come ondini imprendibili, vanno liberi, da un corpo stanco ormai, i pensieri che hai, sulle mani, sulle mani, nella stanza 26. Tra quei fiori che non guardi mai, se ti affacci vedi il mare, ricominci a respirare, poi ti perdi nella sua armonia, e hai il coraggio di andare via, e ad un mondo sporco che non vuoi, e ad un bacio che non ha temezze, che non sa di carezze. Sì, tieni tempo, tieni tempo, sì, sì, e cammini lungo il mare, nel suonito restiare, ma tu sei parte di quel tutto ormai. Nella stanza 27, metti un fiore tra i capelli, i tuoi, mentre l'alba nuova ti viene incontro, nel profumo del vento. A mêmes, De關i, dai dai! De关i, si! E si! Ah! Grazie!